eccoci qua ragazzi dei dozer però prima di iniziare la nostra intervista facciamo il nostro bentornato a Antonio Cilano che è un po' che non lo vedevamo e siete i capelli rispetto a prima sì sì sicuro c'è una bilancia là dentro allora parliamo di questa sfida a me personalmente insomma che io non ho potuto giocare perché sono infortunato però l'ho vista da fuori ho visto comunque che voi avete giocato costruito vi è mancata forse c'è un po più di lucidità in fase in fase offensiva cioè mi è sembrato che Filippi fosse troppo solo può essere c'è stato inizialmente un momento di confusione dove non riuscivamo a trovare giusto equilibrio eravamo disavientate poi agli ultimi minuti abbiamo iniziato a giocare un po' meglio però poi la partita purtroppo vabbè certo che quando magari la squadra avversaria trova un gol o un altro poi diventa difficile si sono mangiati un sacco di gol almeno io mi avevo preso un palo poi magari anche un po' fisicamente non eravamo molto cioè rispetto alla squadra avversaria eravamo sicuramente inferiore fisicamente però io comunque tutto questo gap non l'ho visto cioè ho visto più la differenza in fase offensiva cioè nel senso che noi magari avevamo più incidenza vabbè anche perché noi alla fine la prima partita cioè più spinta dagli esterni noi forse avevamo forse voi eravate un po' troppo anche perché noi comunque la prima partita che facciamo campo a serie poi io con loro alla fine non avevo mai giocato cioè non gioco quasi mai con loro quindi insomma ma vediamo di rifarci magari un'altra sfida più in là come assetto difensivo diciamo grazioso l'ho visto c'era non mi sembra di trapani e fleccia di fleccia ha giocato abbastanza bene anche quando si è spostato avanti ha dato anche un buon contributo si ehm come si chiama zacco? zacco zacco ha giocato di fisico però è un problema che gli manca il fisico manca il fisico si infatti si infatti e poi trapani che ha giocato bene ha trovato anche il gol però poi in attacco niente si vabbè perché era spesso c'era spesso ciccio benvenuto il nostro centrale difensivo che sopra stava si e poi anche Manu nelle salatevano anche Manu diciamo che sgusciava lì ha fatto qualche interventino diciamo mi ha sorprezzo si ahahahah poi la sento l'intervento ahahah va bene vabbè comunque ci sarà è poco un cliente di Caino ma non mi ha aspettato ma mi ha aspettato ma mi ha aspettato anche lui ahahah che tristezza che siamo noi ah per te lo fa bella io ho giocato no vabbè allora hanno giocato tutti bene cioè anche dal quartiere pure che e anche questo ragazzo ha fatto parate questo nuovo lì si è attaccante dei dei porti aperitivi si 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 gioca molto con la squadra infatti giocava 1-2 di spawn si poi io non si trovava bene cioè insomma diciamo che noi cerchiamo di fare un gruppo per divertirci meglio perché quando si gioca in maniera sistemata organizzata uno si diverte di più esatto quello che ci mancava noi beh però alla fine ti ripeto io non ho visto questa differenza io ho visto soltanto magari qualche difficoltà in fase offensiva perché mancava un po' più di spinta forse esatto cioè magari quando e c'era un po' usata in grande condizione ahahah eh dicevi Manfred quando difendevamo magari eravamo sempre inferiore cioè quando attaccavamo in inferiore numerica e poi noi rimanevamo in attacco e col contropiede allora ovviamente era più veloce quindi segnavano va bene va bene ragazzi è stato per noi è stato un piacevole lo stesso prescindere dal ci siamo divertiti peccato che non siamo eh no ahahah comunque ci rifaremmo sicuramente tanto da qua a giugno sei quanto voglio di fare amichevole certo figuriamoci va bene ragazzi una buona serata alla prossima ciao 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 ciao